buongiorno e buon sabato a tutti i telespettatori di super j questo è l'oroscopo vediamo oggi cosa dicono le stelle ariete iniziate ad avvertire la stanchezza di un rapporto troppo monotono cercate di incoraggiare il partner ad animarlo un po giornata molto noiosa e di routine cercate di distrarvi almeno in serata senza strafare ma creando le occasioni giuste toro giove guida oggi i vostri passi e le vostre azioni portando una ventata di novità e fortuna i nati di giovedì poi avranno sole e marte che li renderanno energici e particolarmente fortunati in tutto ciò che faranno gemelli attenzione potrà nascere un flirt pericoloso o un legame e complicato cautelati contro possibili furti perdite e imbrogli riposa di più se pensavate di aver liquidato definitivamente una questione questa a breve tornerà a riproporsi cancro luna e venere oggi sapranno regalarvi soddisfazioni piene e durature anche gli screzi si appianeranno tra partner sarai loquace buoni i rapporti con fratelli cugini zii e vicini di casa se l'erba del vostro vicino vi sembra sempre più verde provate a guardare anche i sacrifici che ha sostenuto leone non potreste desiderare di meglio in amore se siete nati di giovedì e di sabato i single potrebbero trovare conforto in un nuovo amore potreste ricevere un messaggio che rigenererà in voi una certa speranza riguardo una situazione che vi sta molto a cuore e potrebbe essere la volta buona vergine parlare del passato non giova alla vostra relazione vivete il presente cercando di sciogliere qualche falla che non c'è che c'è ancora nel vostro rapporto di coppia non è che trascurando il partner che chiarirete a voi stessi quanto di abitudine c'è o quanto amore ancora resta bilancia possibili incontri con persone in grado di aiutarvi a risolvere qualche problema mercurio vi aiuterà una volta tanto a incontrare le persone giuste fate buona guardia alle vostre cose potrebbero far gola a qualche ladro o malintenzionato scorpione se avete tradito fate attenzione oggi il vostro segreto potrebbe essere svelato una giornata importante per chi ha trattative in corso o attende un avanzamento in amore si prolunga la risorsa più grande che avete e la vostra maturità e il vostro senso del discernimento sagittario non vi fidate troppo di una persona che avete conosciuto di recente è inaffidabile e vuole solo divertirsi alle vostre spalle provate a staccare la spina inutile farsi prendere dai rimorsi o dai rimpianti poiché avete fatto tutto con coscienza e siete riusciti a portare a termine tutti i vostri piani capricorno non abbiate paura di avere coraggio nell'affrontare una situazione che con il tempo potrebbe degenerare e darvi qualche problema di troppo in serata cercate di contattare una persona che vi potrà aiutare in una questione spinosa acquario oggi potreste fare una magra figura a causa della vostra gelosia o per difendere una persona amica forse senza accorgervene state esagerando in entrambi i casi andate avanti per la vostra strada se il partner lo desidera davvero vi seguirà ovunque pesci meglio una sana dieta per voi ma non per dimagrire ma negli ultimi tempi avete abusato a tavola e mangiate male e troppo velocemente evitate assolutamente di confidare a un amico un vostro segreto non lasciate che le emozioni vi tradiscano l'oroscopo di oggi finisce qui a domani con un nuovo appuntamento a